Ragazzuoli benvenuti a tutti quanti su questo nuovissimo video. Io ragazzi vi ricordo che se volete supportarmi nell'item shop di Fortnite è possibile farlo e basterà andare appunto nell'item shop, cliccare sull'etangorina in base a testa supporto un creatore ed inserire il mio creator code ovvero Croatomist. Accettare e il gioco ragazzi sarà fatto. Inoltre vi ricordo di lasciare un bel mi piace a questo video se ovviamente il video vi è piaciuto e per supportarmi. Detto questo ragazzi non perdiamoci in chiacchiere e godetevi questo fantastico video. Ragazzi andiamo nel mio ex posto preferito. Mamma mia potrei impazzire ragazzi la prigione potrei impazzire potrei impazzire sto per impazzire sto per impazzire. Chi è a sto posto non mi interessa. Ok vado ragazzi la prigione che ricordi. Madonna che ricordi, madonna che ricordi. Yo, Javin, Javin. Oh, che è successo? Perché mi ero trasformata che non ho fatto nulla? What the fuck? Oh, bella. Oh, bella. Ma che... cioè non posso crociare e sparare potrei impazzire non mi vedrà nessuno comunque ragazzi non per dire ma quello si era trasformato in cesso basta basta voglio crociare voglio crociare per l'amore del signorino ok io non landerò mai in questo posto questo posto è una merda questo posto è bruttissimo ragazzi se la safe seguito è qui in torneo potrei veramente impazzire sto impazzendo perché non trovo gli shield comunque ragazzi il piccone è bellissimo ed è veramente bella anche la skin la skin così con le corne è troppo carina lo scudo è normale speravo fosse più bello lo scudo però non è così bello però mamma mia dove è finito io javin javel voi lo vedete ragazzi eccolo ciao amore mio vuoi fare cose sexy come no 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 Che succede? Sono un po' confuso Oh oh eh 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 Potrei impazzire bra Potrei impazzire Comunque il piccone in teoria è quello standard Giusto? È quello del no skin E invece è colorato Però Sembra quello classico Non mi sbaglio È veramente bello Oh my god All right Belli questi flick brother Chi te li ha insegnati? Mia zia no Che cos'è ragazzi? Che cos'è stato? Ma no 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 Nessuno ha stato l'impulso Non c'era nessuno vicino a me What? Avete visto anche voi? Che cazzo è stato ragazzi? Non ho idea Non ho idea ragazzi Non ho idea Non lo so Cioè me la lanciate lui da sopra? Ma sei serio fratomo? Vuoi morire così giovane? Oh Non mi fa prendere il barret Potrei impazzire Ho dei launchpad Martina si chiede Se ho dei launchpad Skull Dove è andato il tizio? Are you serious? Is my friend Che facciamo? Giochiamo all'astrello L'astrello Va bene va bene Scappa pure Non di certo non mi metto a seguirti Anche perché ora rifterei sicuro Conoscendoti ovviamente Ah ho quattro player Di cui uno sono i mini third player Dove stanno? Ok uno è là dentro Che è quello di prima Va bene Lo seguiamo What? Ragazzi ma Ma che succede stasera? Oh Ma basta Allora c'era un altro player Che in teoria mi sparava Da tipo da lì Da nord ovest Se non erro I think I think I think Va bene il dubbio Sì è lì sopra Dai bot Non posso neanche riftare Fills Badman Salve C'è nessuno qui? C'è qualcuno che acampara? Per forza c'è qualcuno che acampara 100% Divertentissimo Ah Enjoy Gigi Gigi Easy